La nostra avventura insieme è iniziata così La nostra avventura insieme è iniziata così All'improvviso la nostra avventura in terza è stata interrotta da questo piccolo ma potente e sereno Abbiamo continuato a studiare a distanza, non ci siamo mai arresi e non abbiamo mai smesso di volerci bene Complimenti bambini, siete stati proprio bravi, meritate questa pagella speciale Ci vediamo a settembre, buone vacanze a tutti!